Un pensionato è morto stamani in un incidente stradale avvenuto a San Costantino Calabro nel Vibonese. L'uomo, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro una vettura parcheggiata. Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118 che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano signore. Le indagini sono condotte dai carabinieri di San Costantino Calabro per capire la dinamica di quanto accaduto.